Bentornata a Agada. Questo splendido esemplare di Ibis calvo settentrionale è tornato nell'altopiano dei sette comuni per bearsi del clima fresco tipico della zona e dei prati appena falciati. L'Ibis dell'altopiano rientra in un progetto europeo mirato a far tornare questa specie nel continente, dove si sono rivisti dopo 400 anni. Agada aveva trascorso l'inverno a Sovizzo insieme ad altri due Ibis che hanno raggiunto poi un sito riproduttivo in Germania. L'appello dei ricercatori e degli studiosi che seguono gli spostamenti di questi magnifici volatili è molto semplice. Agada non va avvicinata né tantomeno disturbata. Attualmente si sta svolgendo a Salisburgo l'addestramento aereo per una trentina di giovani Ibis che stanno imparando a seguire i due deltaplani a motore con le loro mamme adottive e ad agosto ripartirà dopo due anni di stop per la pandemia la migrazione guidata da parte dell'uomo che li condurrà dal nord delle Alpi verso l'oasi WWF di Orbetello in più tappe. Attraverso questo percorso gli uccelli impareranno la rotta migratoria e saranno protagonisti di una nuova speranza per un futuro senza pericoli per questa incredibile specie.